Ciao a tutte e benvenute in un nuovo video Allora, lì dietro ci sono delle orecchie che compaiono Ho sempre la mia, diciamo, assistente barra di stupatrice presente Allora, oggi torno con un nuovo video beauty e voglio parlarvi delle nuove tinte labbra della NYX, le Metallic Matte Queste cose le avevo fatte intravedere nel video dei bocciati perché le avevo contrapposte alla loro versione precedente, credo che sia le Cosmic Metal e invece non mi hanno piaciuto affatto Allora, ormai abbiamo capito perché per quest'autunno e inverno si usa il metallizzato Io devo essere sincera, questo trend all'inizio non mi ha entusiasmato molto Non sono un amante del metallizzato Ora, piano piano, sto cambiando idea Però, diciamo, sono il resto sempre per il versante matte e tutto il resto Queste qua, diciamo che mi piacciono Alla fine mi sono piaciute perché appunto, oltre ad essere metallizzate hanno comunque il finish matte che le rende molto particolari e sfruttabilissime secondo me Ora ve le faccio vedere indossate così vediamo un pochettino voi anche cosa ne pensate Allora, qui c'è tutto l'elenco delle tonalità Sono 12 colori che vanno da tonalità più nude e neutre a colori molto particolari come il viola o il nero Allora, io direi di iniziare da quelle più chiare così magari, perché... Allora, io alcune di queste le sto usando tantissimo, le uso molto spesso, non le ho provate tutte perché appunto ci sono colori come il viola e il nero che non ho avuto occasione di indossare ancora però quelle che ho provato mi sono piaciute molto sia come tenuta, come resistenza, come comportevolezza alle labbra Allora, io direi di iniziare con quelle più chiare perché ho notato che comunque sono molto resistenti ed è anche difficile struccarle in certi casi quindi per evitare di rimanere con le labbra macchiate e di falsare i colori di quelle più chiare iniziamo appunto da queste Allora, il più chiaro dovrebbe essere questo qua il numero 38 si chiama Exposed ed è questo beggiolino barra dorato ormai avrete capito che a me non piacciono i colori così chiari sulle labbra perché non mi piace quando le labbra sono più chiare del resto dell'incarnato e questo qua fa proprio questo effetto Allora, il colore è questo come vedete è molto chiaro ora piano piano si andrà asciugando in realtà, almeno in video, forse non sembra malissimo però, ecco, è un colore molto luminoso, diciamo non è un colore che mi fa impazzire, ecco anche perché tende a ingiallire un pochettino i denti essendo così chiaro quindi questo è quello che in assoluto mi piace meno di tutti Allora, per struccarlo ho portato il famoso gel micellare che ho bocciato nel video dei bocciati vediamo se riesce a struccarle facilmente questo è un colore chiaro, quindi dovrebbe essere facile come vedete fa molta difficoltà ad andare via come vedete sono molto molto resistenti quindi serve un buono struccante per farle andare via e vi assicuro io che le utilizzate alcuni resistono durante il giorno senza problemi sono veramente buoni come qualità il secondo che vado a provare è questo qua che è leggermente più scuro del precedente ed è il numero 29 mauve mist quindi mauve dovrebbe essere malva anche se questo è tutto pur che in color malva secondo me allora è così come vedete è meno metallizzato del primo sembra più un effetto satinato che metallizzato è un bellissimo nude tra quelli che mi piacciono a me che utilizzo di solito però ecco, non è chissà quanto metallizzato però proprio questo magari va bene per tutti i giorni ed è un bel colore allora anche questo ho dovuto strofinare un po' per farlo andare via non oso immaginare con quelli scuri e come saranno le mie labbra alla fine di questo video comunque il terzo è questo molto molto simile al secondo è leggermente più rosato è il numero 30 e si chiama Bella Bella allora come vedete questo è molto più metallizzato di quello di prima il colore è molto simile forse leggermente più scuro sembra sui toni del nude rosato però essendo molto più metallizzato risulta comunque più luminoso devo dire che anche da applicare sono facilissimi perché è lo scovolino classico però è molto morbido e ha la forma perfetta almeno per le mie labbra non è né troppo grande né troppo piccolo quindi riesco ad applicarlo bene senza sbavare certo vedremo poi con i colori più scuri ora passiamo a questo qua un tono molto su più marrone questo qua è uno di quelli che invece ho usato è il numero 31 e si chiama New Era ed è uno dei miei preferiti anche se è molto molto marrone quindi se vi piacciono i marroni questo qua vi piacerà altrimenti un po' meno allora questo è il colore con una sola passata come vedete sono tutti molto scriventi e pigmentati basta una sola passata già per coprire tutte le labbra almeno tra quelli che ho provato io e quelli che sto provando adesso nessuno dà problemi di piazze di colore o zone non omogenee quindi vedete già una passata è ottimo allora passiamo dal colore cioccolato a uno molto più sui toni del rosa penso che i prossimi saranno tutti forse tranne uno tutti sui toni del fucsia e del rosa questo qua è il numero 39 Modern Maven allora questo è un bellissimo colore è tendente al violaggio però fa tutti essendo metallizzato fa tutti questi giochi di luce che sembra che cambia colore è molto simile alla maglia che ho addosso in questo momento e mi piace veramente un zacco adesso passiamo a questo qua che come vedete è super fucsia è il numero 33 e si chiama Budskill allora le mie labbra cominciano ad arrossarsi lungo i bordi quindi comincia a diventare un po' più difficile applicarli in maniera corrente questo qua l'ho applicato abbastanza male comunque come vedete è non fucsia di più è molto molto acceso poi con questo effetto metallizzato risulta ancora più vibrante non so mi ricordo molto gli anni 70 sapete quelle non so queste sono ballerine quelle donne tutte con i capelli cotonati e i leggings di colori stra vivaggi insomma mi ricorda un po' quello stile a me piacciono i colori molto accessi e così vivaggi però forse per l'inverno magari non è proprio indicatissimo però non è male come colore bisogna farci un pochettino l'occhio allora questo mi ha lasciato la luna un pochettino rosata sulle labbra quindi andiamo a provare adesso questo che almeno è un pochettino simile è il numero 34 si chiama Cool Society ed è un fucsia ma più scuro e tendente al violageo allora anche questo l'ho applicato malissimo oddio non riesco a sistemarlo perché è molto scuro poi c'era un bel look che mi dava fastidio mi ha fatto sballare un po' tutto comunque anche questo è un bellissimo colore voi ormai sapete del mio amore incondizionato per i rossetti scuri quindi più ci avviciniamo i scuri più mi piacciono anche questo qua è un bel metallizzato perché fa dei giochi di luce tra viola un po' più chiara e viola un po' più scura quindi è molto bello come colore allora come al solito quando faccio questi video swatch mi ritrovo il rossetto ovunque ho le mani tutte sporche pure dal naso l'ho dovuto struccare il rossetto adesso passiamo a questo qua che è un po' più chiaro dei precedenti ed è più sul rosso è il numero 37 e si chiama Acme ok anche questo rientra tra i miei meno preferiti perché è praticamente rosso però per me il rosso deve essere assolutamente matt è molto più intenso di questo questo è troppo chiaro per i miei gusti e poi con questo effetto metallizzato questo qua non mi piace anche mancano gli ultimi 4 adesso passiamo a questo qua che è il numero 35 si chiama Biker Babe questo qua è uno che mi piace molto uno dei miei preferiti ovviamente questo rientra tra i miei preferiti perché è scurissimo ed è perfetto per questa stagione perfetto per l'autunno perché è un bordo scuro tendente al vinaccia violaggio è bellissimo è tra i miei preferiti ed è tra quelli che ho usato di più l'altro mio preferito invece è questo qua ancora più scuro ed è il numero 32 Neat Nude questo l'ho applicato veramente malissimo e poi ho tutte le labbra arrossate quindi si vede tutto il bordo rosso è un colore molto particolare perché è scuro da qua sembra un normalissimo vinaccia invece ha una punta di grigio quindi è molto tendente al grigiastro però mi piace lo sapete mi piacciono questi colori scuri un pochettino particolari quindi questo qua mi piace proprio infine sono rimasti i loro due i più particolari di tutti quelli che non ho ancora avuto il coraggio di provare però sono curiosissima perché non mi sono mai vista con dei colori del genere addosso quindi sono curiosa di vedere come sembrano iniziamo da questo dal viola è il numero 36 e si chiama Ego allora come vedete è molto molto viola è a metà tra un viola acceso e un blu elettrico ed è molto particolare come colore non penso di vedermici allora questo qua tra quelli che ho provati in ora è quello meno omogeneo però ho dovuto dare più passate per renderlo uniforme quindi poi ovviamente non è un colore adatto a tutti i giorni non è adatto a tutte le occasioni è molto particolare però magari questo colore in tema al nero che vedremo dopo possono andare bene per un make up a tema Halloween visto che si sta avvicinando vi comunico che è stato anche più facile da stuccare quindi credo che abbia una formulazione completamente diversa da tutti gli altri adesso arriviamo a lui è il numero 40 Gorouge a me è sempre attirato il rossetto nero sono sempre stata curiosa di provarlo quindi non vedo l'ora di provare questo anche se è metallizzato ok mi piace tantissimo non so se sono le luci però è un nero che col metallizzato dà dei riflessi bluastri è troppo bello certo ho notato che rispetto agli altri ci mette di più ad asciugare quindi se fate come me che adesso sto parlando comunque muovete le labbra rischiate di spostarlo un po' in giro però come colore mi piace proprio mi dispiace non poterlo utilizzare perché comunque penso che mi porterebbe tutti male con un rossetto di questo durante il giorno però non è per niente male come colore mi piace allora i rossetti finalmente sono finiti ormai resto con questo nero addosso do un po' di sollievo alle mie labbra evitando di struccarle di nuovo subito allora sono contenta di aver fatto questo video perché mi sono resa conto che la maggior parte dei colori visti così dall'esterno e poi applicati sono colori completamente diversi quindi rendono in maniera diversa sulle labbra quindi sono contenta spero che anche a voi abbia fatto piacere e vi tornerà comodo questo video di sbocci che ve li mostro tutti piccolo aggiornamento in tempo reale man mano che parlo il rossetto non si sta asciugando ma anzi sta andando via sempre di più comincia continua a muoversi lo sento che si va ritirando non lo so quindi anche se mi piace molto il colore però non penso di potervelo consigliare al 100% non so se è il mio difettoso o magari è proprio così la formulazione fatemelo sapere se avete un tumore di provarlo allora prima di chiudere io volevo invitarvi a passare sul canale di Claudia Get Vogueable vi metterò il link sia qui sotto nell'invobox che anche qui sopra da qualche parte se riesco anche lei nel suo canale parla di beauty fashion e lifestyle io la trovo molto piacevole da ascoltare e guardare quindi vi invito a passare sul suo canale poi vi ricordo di iscrivervi al mio se non siete ancora iscritte così da non perdervi tutti i prossimi video io non ricordo se ve l'avevo detto però il prossimo fine settimana sarò a Firenze e penso che farò un po' di vlog perché ho intenzione di fare un po' di cose carine un po' di shopping quindi pensavo di fare dei vlog fatemi sapere se può farvi piacere io per oggi vi saluto spero che appunto questo video vi sia piaciuto lasciatemi un like se vi piace questa tipologia di video così mi rendo conto appunto se vi piace se può essere più utile e noi ci vediamo al prossimo video ciao